Baglio, in quest'ala del carcere c'è più caldo. Eh sì, è esposta a sud, professore. Ma uno come te non ha paura di niente con quello che ti è successo. Che sei fatto? In quella parchina senza neanche un goccio d'acqua. Ma professore, ridimi di quel pannolino, incredibile. Mi sposte mettete le levo. Sì. Potevo pensare io che un pannolino oltre un cassonello e lo metterò nel culo dei bambini, non nemmeno un'armatura, scusi. Comunque, Pangrattà, morì di sete di essere tremendo. Sì, mamma mia, lo trovavo dopo cinque. Dopo cinque ore e mezza in mano. C'aveva un'arzura, c'aveva un'arzura micidiale. E comunque, oh, malgrado l'arzura, ci si stava per baciare. Ma la, sì, ma guarda che Morgana. È una donna fantastica, secondo me. Poi, fanciullesca, poetica. Senza difetti. Ma che senza difetti, povera?